La scuola organizzatrice di Varazze conclude con un balletto su musica di Mike Oldfield e del chitarrista varazzino Roberto Olivieri. Il brano ha vinto numerosi concorsi ed è qui interpretato dal gruppo palcoscenico danza diretto da Giovanna Badano, insegnante anche lei diplomata professore di danza dal ministero della cultura francese sia nel classico che nel jazz. Signore e signori, il gruppo palcoscenico danza in pentacanone. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.